Il Consiglio Comunale ha deliberato a maggioranza un documento che prevede un elenco di lavori di riqualificazione urbana per oltre 71 milioni di euro che saranno realizzati sotto la responsabilità del Comune di Napoli. Sono nove i progetti approvati che riguardano diversi luoghi della città e che vanno dal restauro della Galleria Principe di Napoli all'attuazione di un incubatore di cittadinanza attiva. Questo è un passaggio molto importante che il Consiglio compie perché ratifica un budget molto significativo del contratto interistituzionale di sviluppo per il centro storico che ci consente di intervenire su diverse aree con diversi progetti. Ci sono interventi di natura più propriamente legata per esempio alla riqualificazione delle strade, ci sono poi interventi che riguardano la riqualificazione di immobili nei quali prevediamo di insediare delle attività di ovviamente utilità collettiva e con delle significative ricadute culturali, ci sono interventi che riguardano poi anche vasti luoghi urbani, pensiamo per esempio al pacchetto di interventi previsti per il rione Sanità e i Vergini o per esempio appunto la riqualificazione della salita dello Scudillo. Si tratta comunque di un programma molto importante perché interviene su una serie di luoghi con temi e anche tipi di interventi diversi e molto bene assortiti e quindi per noi questo significa nei prossimi mesi avviare il progetto, il processo di implementazione di tutte queste attività che siamo certi avranno delle ricadute molto significative sulla qualità della vita e la qualità dei luoghi urbani.